Il terzo appuntamento del Mondiale di Formula 1, circuito di Albert Park Melbourne, il nuovo appuntamento dunque con il Racing Podcast, per quanto riguarda il Mondiale di Formula 1 non cambiano i valori in campo, ovvero vince ancora una volta una Red Bull in questo caso, torna a vincere Max Verstappen, Mercedes ancora una volta seconda macchina in pista, un Fernando Alonso sempre più eterno e una Ferrari che comunque è migliorata ma era comunque indietro rispetto alle tre scuderie sopra citate. Al termine di un Gran Premio che potremmo però definire un'ecatombe perché alla fine soltanto 12 vetture sono arrivate al traguardo al termine di una gara eterna durata praticamente quasi tre ore. In tutto questo però va rimarcato come Melbourne abbia offerto degli spunti interessanti su cui soffermarci e sarà più che altro sugli incidenti e su come si è sviluppata questa gara eterna, questo Racing Podcast, piuttosto che sui valori in pista perché di fatto sono gli stessi che abbiamo visto sia in Bahrain sia a Jedda. Il primo episodio però di cui dovremmo andare a parlare è sicuramente quello che accade al giro numero uno, questo è il frame finale dell'incidente che accade a Charles Leclerc, il pilota della Ferrari di fatto ha una gara che di fatto dura meno di un battito di ciglia perché alla terza curva Leclerc ha un contatto con le due Aston Martin e finisce letteralmente per le terre. Inizialmente in Telecronica Sky è stato attribuito una corpa a Lance Stroll, in realtà vedendo l'onboard Stroll ha poche colpe per quanto sia un pilota che a me non piaccia. C'è di fatto una incredibile bagara al primo giro con Fernando Alonso che deve impostare curva tre allargando un attimo la traiettoria, forse quel movimento non era propriamente congruo. Stroll si ritrova in mezzo, Leclerc prova a fare la grande giocata dall'esterno, alla fine il canadese e il monegasco arrivano al contatto e Leclerc di fatto finisce out for the race e quindi ancora una volta zero per il pilota monegasco che in tre gare ha semplicemente raccolto un piazzamento a punti a Jedda e poco più. La Ferrari va detto non è che fosse sta gran macchina anche oggi, è vero che aveva fatto dei passi in avanti e soprattutto nella sezione di qualificazione con Sainz abbiamo visto un buon passo gara, peccato che Sainz poi andrà a rovinare la sua gara ma ne parleremo alla fine delle analisi di questo race podcast che in realtà ha regalato più bandiere gialle e rosse che altro. Una bandiera rossa per esempio è quello che è capitato ad Alexander Albon, il pilota anglo-tailandese stava facendo una gara incredibile dove l'anno scorso con di fatto 57 giri di gomme dure è arrivato in zona punti decimo, in questo caso perde la macchina alla 5, tutta velocità curva che adesso si è fatta non dico in piena ma comunque ad altissima velocità la macchina pendola, Albon finisce a muro e di fatto dice addio alle speranze di punti, Albon stava facendo una gara clamorosa, era sesto l'anglo-tailandese e invece evidentemente deve abdicare bandiera rossa alla fine una bandiera rossa che sarà deleteria per molti perché vista la prima safety car usata da Leclerc e Stroll evidentemente molti piloti si erano fermati soprattutto Perez che partiva dalle retrovie per essere uscito a muro in qualificazione 1, alla fine il pilota anglo-tailandese sta bene ma evidentemente deve dire addio a una grande gara, gli altri piloti invece si fermano, montano gomme dure e alla fine però non si riesce ad avere quelle rimonte che ci poteva aspettare, un po' in realtà arriva da Carlos Sainz, un po' arriva ovviamente da Sergio Perez che con una Red Bull dominante non poteva non rimontare fino alla quinta posizione, quello però che è da analizzare è quello che in realtà succede nelle ultime fasi di gara perché dopo appunto la bandiera rossa causata da Alexander Albon c'è soltanto il ritiro di George Russell per un problema al motore ed è un peccato perché Russell sta facendo una grandissima gara, aveva fatto una partenza numero 1 ovviamente interessante con una condotta di gara in prima posizione, purtroppo il motore della Mercedes gli si fonde e dunque Russell deve dire addio a un podio praticamente certo visto che comunque Perez partiva da lontano e una Ferrari era praticamente già fuori e Alonso probabilmente non aveva questo passo per arrivare a giocarsela con questa Mercedes che su Albert Park mi è sembrata più sul pezzo rispetto magari ad altre circostanze. L'episodio che comunque fa discutere ancora una volta i tifosi della Ferrari e non solo è la penalizzazione data a Carlos Sainz per questo contatto contestualizziamo il tutto, c'è una bandiera rossa dovuta al fatto che K-Mag perde una gomma, quindi al 55esimo giro di 58 viene fermata la gara, si riprende visto che con il giro di formazione e ricognizione i giri aumentano di 2 e si va al giro numero 57, di conseguenza viene fatto lo stesso precedente che viene fatto a Baku nel 2021, quindi partenza da fermo due giri di gara e che vinca il migliore alla fine nel marasma di curva 1 vediamo che le Alpine vanno fuori perché Gasly finisce largo, finisce largo anche Sergio Perez che vanificherà dunque in parte la grande rimonta. Sainz tampona evidentemente Fernando Alonso che deve di fatto abdicare alla fine per il tamponamento dato a Fernando Alonso, Sainz verrà penalizzato di 5 secondi, il che vuol dire essere di fatto ultimo in pista perché dopo tutta questa grande carambola succede veramente l'irreparabile, le due Alpine finiscono fuori, De Vries anche lui finisce per le terre, si deve ritirare, alla fine viene fatto un giro di parata, potremmo chiamarlo così, con l'ordine di partenza dovuto prima dell'incidente di Carlos Sainz che viene dunque penalizzato, Alonso viene ripristinato da ultimo a terzo e alla fine il podio sarà quello che vedremo, di conseguenza Verstappen, Alonso in terza posizione e in mezzo a Louis Hamilton, una teoria di una grandissima gara. Tutto questo per dire che però comunque questo signore, Matt Verstappen, è ancora una volta di un'altra categoria perché è vero che c'è stata la bandiera rossa e quindi il distacco è assolutamente platonico, ma prima che accadesse un incidente di K-Mag Verstappen aveva di fatto più di 10 secondi di vantaggio, qualcosa di veramente irreale per questa Red Bull che non dico ha il potenziale per vincere tutte le gare, ma comunque è sempre bene ribadire che un po' come abbiamo detto nell'ultimo Racing Podcast di Jedda, se la Red Bull è questa, il mondiale è bello che è finito alla terza gara. Per Verstappen si tratta della seconda vittoria in tre gare, suona Helt Wilhelmus e andiamo alla classifica generale con 69 punti in classifica, il più diretto rivale paradossalmente è il suo compagno di squadra che di fatto, un po' come quando c'era Valtteri Bottas in Mercedes, quando è mito amici ai mondiali, di fatto conta il giusto anche se Perez è più in alto rispetto a Bottas, è appunto il messicano che finisce quinto, prende il punto dizionale del giro veloce, dunque il distacco è meno 15 già alla terza gara, distacco non insormontabile, ma in questo contesto è comunque significativo, il podio è completato da Fernando Alonso, l'eterno 42N, complice anche di fatto la penalizzazione Data Science, il fatto che per l'ordine di partenza è stato ripristinato nella posizione in cui era, evidentemente c'è chance per il terzo podio consecutivo, del pilota asturiano che sale a 45 punti in classifica confermando che comunque la Stone Martin se la può giocare con Mercedes per il secondo ruolo di macchina in pista, anche se in questo contesto, quello di Albert Park, la Mercedes era la seconda macchina senza se e senza ma, perché Lewis Hamilton è sempre stato nelle posizioni che contavano, era prima al secondo posto, nella prima partenza dietro George Russell, George Russell era appunto in testa prima che ci si rompesse il motore, ovviamente in realtà poi dopo nella carambola dei ritiri, pit stop vari, alla fine Russell è sceso di posizioni ed Hamilton è salito in seconda, ma comunque questa Mercedes in questa pista ha dimostrato di essere una macchina non contendere della Red Bull, ma comunque una solida realtà per quanto riguarda il podio e le altre posizioni sono appunto di fatto le stesse conferme per quanto riguarda almeno una parte di quello che abbiamo visto evidentemente nelle gare medio orientali, perché è vero che c'è la Ferrari dietro ma davanti c'era comunque l'Aston Martin e l'Astrol nonostante si sia ritrovato fuori alla fine prima della bandiera rossa, è stato anche lui ripressionato un po' come Fernando Alonso e finisce quarto di fatto, secondo il migliore stato in carriera per il pilota canadese, che riesce comunque a confermare quanto detto poc'anzi. Le altre posizioni sono qualcosa di sorprendente perché appunto essendo che sono arrivate 12 macchine in pista ci sono dei risultati un po' exploit anche se sono evidentemente figli delle catumbe di Melbourne, quinto è appunto Sergio Perez come detto poco fa, sesto è Blandon Norris che non ha una macchina competitiva ma trova una sesta posizione insperata che può essere una linfa vitale per il morale soprattutto, non per la tecnica con le macchine al completo, la McLaren anche oggi sarebbe andata tranquillamente comunque o fuori dei punti o comunque a limitare, che è già meglio rispetto alle gare indecenti viste in Bahrain e in Arabia Saudita. Settimo è per quanto riguarda la gara di Melbourne il venerabile maestro Nico Hülkenberg con una Haas che comunque tolto il problema di K-Mag è una macchina in crescita assolutamente, ottavo è l'uomo di casa letteralmente Oscar Piaste per i punti in carriera per il talentuoso pilota australiano che anche lui sfrutta i ritiri delle macchine davanti, soprattutto le due Alpine che si centrano da sole in curva 2, fatto sta che comunque nella gara letteralmente di casa perché Piaste originario proprio di Melbourne l'81 fa punti, fa punti anche Guan Yu Zhou stesso discorso di prima, è l'unica alfa a punti incredibilmente Guan Yu Zhou fa una buona prestazione in maniera molto compita, non da grandi eccelsi ma comunque è importante anche rimanere in pista, sono punti per il pilota cinese, ultima posizione a punti invece guadagnata da Yuki Tsunoda che appunto completa la zona a punti per un Alfa Tauri che in questo momento è sempre alla metà della zona a punti e Tsunoda invece ha sempre avuto ragione di Nick DeVries, pilota che al momento evidentemente è ancora in ambientamento nonostante comunque una gara positiva l'avesse fatta lo scorso anno. Appunto per quanto riguarda la testa i valori sono sempre quelli, la Red Bull è già indirizzata a vincere questo mondiale, non ci sono se e non ci sono ma, soprattutto se non c'è una seconda forza ben definita, abbiamo visto che nelle prime due gare era la Ston Martin, in questa gara era la Mercedes, la Ferrari poteva probabilmente puntare ancora una volta alla quarta quinta posizione, sempre se ovviamente Leclerc non si fosse girato in curva una, ma ripeto non è una colpa di Leclerc, non è una colpa di Stroll, in questo caso di Leclerc è un incidente di gara senza se e senza ma, tutto questo però per dire che il rider del giorno, il driver del giorno meglio, perché siamo su quattro ruote, non è Alonso per l'ennesima volta, non è Lance Stroll, ma in proporzione il rider del giorno, il driver del giorno meglio per me. Nicholas Hulkenberg, il venerabile maestro che in proporzione fa una gara molto interessante, era già in ottima posizione nella prima ripartenza in punto top 10, è riuscito a mantenere la posizione, bravo a sfruttare anche i ritiri degli altri e con una Haas che comunque è in cristal, è meglio del suo compagno di squadra Kevin Magnussen, ben più esperto di questa macchina, quindi per quanto Hulkenberg non sia stata una presa secondo me felicissima da parte del team Haas, è importante arrivare a dire quando fa una buona gara e dunque Nico Hulkenberg è il mio driver of the day, avrebbe potuto darlo ovviamente alla McLaren, ma ovviamente è in proporzione, più significativo secondo me è il sestimo posto di Hulkenberg, che è il sesto e l'ottavo di Piastri, perché comunque la Haas è di base superiore alla McLaren e la McLaren invece deve portare degli aggiornamenti che in parte sono arrivati qui in Australia e però quelli completi arriveranno a Baku, alla fine ci sarà questa pausa di un mese intero prima di ripartire con le ostilità, si correrà a Baku, circuito dell'Azerbaijan, dove peraltro ci fu il precedente della bandiera rossa e ripartenza da fermo con due giri nel 2021, dove appunto Hamilton vanificò una grande vittoria, vedremo se evidentemente in questo mese di pausa Ferrari potrà fare dei passi avanti, non che fosse così evidentemente difficile fare dei passi indietro, se la McLaren potrà migliorare, se la Mercedes continuerà a proporre un passo interessante, come in questa gara di Melbourne, appuntamento ovviamente nel 5 Stelle di Baku, tra di fatto un mese si correrà il 28 di aprile, così come correrà la Formula 2 in tega di Azerbaijan, Formula 2 che insieme alla Formula 3 ha gareggiato a Melbourne per la prima volta, gare che appunto ha recuperato tramite gli highlights, faremo solo però un resoconto velocissimo, alla fine è un mondiale di Formula 2 talmente equilibrato che il leader cambia di fatto ogni singola gara, in ordine vince la gara sprint, Dennis Hauger, il pilota norvegese del team MP Motorsport, campione in carica, che fa una buonissima gara col giro veloce, dunque mette punti importanti sul suo carniere, al netto che purtroppo si deve ritirare nella gara Fitcher e deve dire addio a ancora più punti in classifica, il norvegese comunque è settimo nella classifica generale di Formula 2, per lui suona il suo inno nazionale, ovvero sì, noi amiamo questo paese l'inno norvegese. In seconda posizione c'è il primo podio in Formula 2 per Jack Crawford, pilota del junior team della Red Bull, che è appunto salito quest'anno dalla Formula 3 e in terza posizione invece abbiamo Kush Mani, una delle rivelazioni di questo campionato di Formula 2, pilota del team Campos che è evidentemente migliorato tantissimo rispetto allo scorso anno, anche lui, Mani, è un pilota che viene dalla Formula 3, non gli davo praticamente un centesimo e invece è una solida realtà, tante prestazioni buone in qualificazione, tante gare nelle prime cinque posizioni e primo podio in carriera, anche per il pilota indiano. Invece la gara che conta di più, la feature, la vince Ayumu Iwasa che di fatto fa sia pole position sia vittoria e di conseguenza oltre che per il giapponese, suona il Kimi Gaiò, la seconda vittoria in stagione, arriva anche la legge del campionato con 58 punti in totale davanti a quello che secondo tutti è il pilota più importante evidentemente per vincere il titolo del mondo Formula 2, ovvero Theo Pursheri, il giovane dell'Alfa Romeo, è comunque in seconda posizione, al netto che ha buttato via la gara sprint, ancora una volta, con la centesima posizione. Terzo invece è Arthur Leclerc, primo podio della carriera in Formula 2 per il fratello di Charles. Arthur corre per il team Dams e quinta posizione in campionato per quanto riguarda il pilota monegasco. Il leader del campionato invece prima di questa gara era Lars Bouchung che però fa zero in weekend australiano e di conseguenza è quinta posizione per un campionato però comunque molto equilibrato perché di fatto fino allo stesso Bouchung, Leclerc e Daruvala sono tutti lì vicino in Formula 2 di stacchi anche più ampi, possono essere però più recuperabili in quanto sono più punti a disposizione ogni gara, ricordiamo, a 2.20. Esordio per la Formula 2 in terra di Melbourne, esordio per la Formula 3 anche in questo contesto. Prima volta che le categorie propedeutiche sono andate oltreo ceno per un connotato sempre più mondiale. Alla fine per la Formula 3 era il secondo appuntamento della stagione e alla fine abbiamo già un leader ben definito anche se ovviamente come per la Formula 2 il campionato è molto molto lungo. In ordine vince Zacco Sullivan, pilota junior della Williams del team Prema, prima vittoria in carriera per O'Sullivan per il quale suona God Save the King in questo caso. Seconda posizione per il figlio di Juan Pablo Montoya ovviamente, scusatemi, ovvero Sebastian che fa il primo podio in carriera anche per lui in F3 e terzo Paul Aron, pilota esterno junior della Mercedes idem con patate così come per il figlio di Juan Pablo Montoya e per Zacco Sullivan è il primo podio della carriera. Il leader però del campionato di Formula 3 è Gabriel Bortoleto che vince per la seconda volta consecutiva la gara feature, quella che vale più punti, in questo caso non con giro veloce ma con la pole position dunque per lui suona l'inno nazionale brasiliano e 58 punti in classifica per il pilota del team italiano Trident. In seconda posizione abbiamo Gregoire Susi, pilota svizzero del team Art al secondo anno in questa categoria e poi finalmente c'è il primo podio in carriera in Formula 3 per Gabriel Emini, uno dei nostri portacolori più talentuosi il pilota di Palermo fa una grandissima gara che riscatta ampiamente il weekend del Bahrain dove poteva arrivare alla vittoria o comunque al podio nella gara appunto medio orientale qui invece fa un quarto posto incredibile in gara 1 e un terzo posto ancora più significativo in gara 2 ricordiamo però che Gabriel Emini è un pilota opzionato dalla Alpine Junior Team quindi attenzione al classe 2005. Un altro italiano rappresenta invece in questa competizione ovvero il piacentino Leonardo Fornaroli che anche lui si conferma una solida realtà di questo campionato di Formula 3, settimo in gara spring soprattutto quarto in gara lunga, abbiamo pochi italiani che sono veramente molto bravi in attesa che ne arrivino altri nei prossimi anni a partire da Andrea Chimiantonelli che però corre in questo caso nella Formula Regional europea. Una Formula 3 che invece a differenza di Bacua avrà una pausa un po' più lunga tornerà a Imola dove appunto tutte e tre le categorie si ritroveranno dopo evidentemente anche lo scorso anno dove le ho viste tutte e tre dal vivo in ogni caso questo è il quadro generale delle categorie Formula 1, Formula 2 e Formula 3 vi lascio con la classifica della Formula 1 con Verstappen sempre più leader del mondiale di Formula 1 non che ci fossero altre alternative a riguardo appuntamento con la Formula 1 in Azerbaijan a fine aprile il saluto da parte di Matthew Thorgaard ci vediamo al prossimo video.